Hi guys! Finalmente riesco a fare un video, tra l'altro è la terza volta che provo a registrare questo video Il tempo manca sempre, però oggi mi sono imposta, assolutamente si fa il video Perché oggi, proprio oggi, perché oggi, diciamo oggi ancora una volta Sono 8 mesi che sono negli Stati Uniti E sì, oggi sono 8 mesi 8 mesi che sono volati E ho deciso di fare questo video per raccontarvi un po' di questi 8 mesi Perché sono un po' repetitiva oggi Per raccontarvi un po' di questo lasso di tempo E perché, secondo me, fare l'opera è stata una delle scelte migliori della mia vita E quindi, se mai qualcuno fosse in dubbio, spero che questo video possa aiutarvi In primis, parliamo della mia host family La mia famiglia è americana e meravigliosa Io sono follemente innamorata di loro Loro, fortunatamente, sono follemente innamorati di me Sono pazzi, io anche E siamo un agglomerato di psicopatia Tutti insieme E quindi ci troviamo benissimo Secondo me, la scelta della famiglia è la scelta più importante Perché è comunque la parte principale dell'essere un au pair E stare in contatto con i bambini, praticamente di continuo E se trovi una famiglia che non ti sta a genio E con cui non ti puoi trovare bene Anche se sei San Francisco o Manhattan Scartala Perché sarebbe un inferno vivere con una famiglia Con cui non riesci a vivere bene Io sono stata molto fortunata con loro Perché intanto mi sopportano Poi non devo lavorare 800 ore a settimana Cosa anch'esso molto importante Per la mia salute mentale Le bambine sono abbastanza grandicelle Perché sono 6, 8, 10 e 13 anni E quindi sono abbastanza indipendenti Non sono toddlers Non sono babanetti Questo italiano non sono Come si chiamano i toddlers in italiano? Non sono bebè Non sono bambinetti Vabbè, voi avete capito Non sono bambini, piccoli piccoli E quindi sono più facili da gestire E comunque sia Il succo è Scegliete Scegli Scegli una famiglia Che ti sia genio Scegli una famiglia Che sia perfetta per te Perché Puoi essere veramente A Los Angeles Ma se odi ogni giorno Stare con la tua famiglia Non ti godi niente In questi 8 mesi Io ho viaggiato tantissimo E forse anche per questo sono volati Ogni mese Sono andata da qualche parte Sono stata In tutti i 6 stati del New England Che per carità sono piccini E molto facile da visitare Però comunque Li ho fatti tutti Che sono Maine Per cui ci vi ho Of course New Hampshire Connecticut Massachusetts Boston Vermont E Rhode Island Sono stata a New York Sono stata a New Jersey Sono stata A Philadelphia Sono stata a Washington DC In Virginia No Washington DC Veramente è nel distrutto A Columbia Sono stata Lì In Virginia Sono stata In Canada A Montreal E sono stata In Texas A Dallas E sono stata A San Francisco In California Sono Andata Ogni mese Da qualche parte E Un motivo Per cui ci si estende Perché Ah sì Comunque Ho esteso Invece che stare un anno Sarà due anni Un motivo Per cui Ho esteso È perché Ogni settimana Ogni mese Vado da qualche parte E voglio continuare Questa tradizione Le prossime mete Saranno Las Vegas E Washington DC Again Perché Vado a visitare Una mia amica E Poi vado In Europa Perché vado A trovare La mia famiglia Per dieci giorni E poi La mia amatissima House Family Visto che io Vado in Italia Ho deciso di venire Di raggiungermi in Italia Dopo dieci giorni E faremo Roma Firenze Torino Casa mia Torino Poi andremo a Parigi A Londra Cioè Meraviglia Comunque Queste sono le mie mete Future Poi voglio ancora Voglio andare a New Orleans Prima di Prima di che Ah prima di tornare in Italia Comunque sia Ho viaggiato tantissimo Continuo a viaggiare E Ho visto posti Meravigliosi Sono Innamoratissima Degli Stati Uniti Ho conosciuto persone Fantastice Ho conosciuto Delle ragazze Con cui So che Ho stabilito Ho stabilito Con cui è nata Io vi chiedo scusa Ma il mio italiano Dopo otto mesi È morto Perché quando tu parli 24 ore al giorno Perché anche nei sogni In se parlare inglese Il tuo italiano Muore E io ogni tanto Penso Alcune parole in italiano Alcune parole in inglese E quando poi Devo tradurre Dall'inglese In italiano È proprio un disastro Perché metto Verbi Dove non dovrebbero esserci Verbi La struttura della frase È completamente distrutta Comunque Ho conosciuto persone Con cui è nata Un'amicizia Che so che durerà Con cui è nata Un'amicizia Che so durerà Vabbè Voi avete capito Tu hai capito Voi o tu È meglio tu O meglio voi Ci penserò Per ora Ogni tanto O ogni tanto Sarò voi Ok Ecco perché le persone Magari si preparano I video Prima Per non Perdere tre minuti Parlando a mambera Comunque sia Ho conosciuto persone Meravigliose Con cui è nata Un'amicizia Che io so Durerà Tantissimo In particolare Un'altra ragazza italiana Con cui Che è praticamente La mia anima gemella È una ragazza tedesca Con cui passo Ogni giorno Ogni giorno Da settimana Non sto scherzando Io e Tony Ci vediamo Pressoché Tutti i giorni Lei abita Un quarto d'ora da me Visto che nel Maine Siamo Una ventina di au pair Non che siamo tantissime È una Veramente una fortuna Ho conosciuto Ho conosciuto anche un sacco di americani Alcuni Ragazzi americani Meglio dimenticarli Ma comunque No Ho conosciuto tantissime persone Faccio Volunteering Che è volontariato Ma non è Il volontariato Che Cioè non è Praticamente Aiutare Io aiuto Ok Negli Stati Uniti Si può fare Volunteering Per qualunque cosa Che sia la palestra Che sia la scuola Che sia il volunteering Il volontariato Come lo si pensa Da noi In Italia Che va nella mensa Dei poveri Tipo la messa Della Caritas Insomma Puoi fare volontari Per qualunque cosa Io ogni tanto Vado alla mensa Dei 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 Senza tetto Ed è Un'esperienza Ravigliosa Che io consiglio Di fare Ovunque voi siate Perché ti fa Capire quanto Devi ringraziare Di avere Qualunque cosa Tu abbia E di non E di Non dare per scontato Niente E poi faccio Volunteering A scuola Nella scuola media Insieme alla professoressa Di arte Che amo La follia Cioè lei Meravigliosa E pazza Come me Più pazza Forse ancora E Cioè Chi ama La forchetta Ok Non so come si dice Di edizione italiano Come la chiama Ariel Arriccia Come la chiama Ariel Comunque nel modo In cui la sirenetta Mi chiama La forchetta Vabbè Meraviglia Vede le meraviglie Io Due volte a settimana Una o due volte a settimana Vado appunto Nelle scuole Alla scuola media Nella scuola media E aiuto Questa professoressa Con Tutto ciò che è da fare I aiuto i bambini Con i progetti Che hanno Ed è Ed è stupendo È una grandissima È un'esperienza Meravigliosa Io Da piccola Ho sempre detto Che Il mio lavoro Da grande Sarebbe stata La teacher La professoressa E quando Ho iniziato a lavorare Con Mrs. Lovett Ho proprio capito Che sarebbe Proprio Il sogno Ed è ancora Adesso il mio sogno Perché È aiutare i bambini E poi i bambini Mi trattano proprio Come un insegnante Perché Io vado lì Ad aiutare La loro prof E faccio tutte le cose Che fa Anche la prof Li aiuto Con i loro progetti artistici E quindi È veramente Una cosa che Cioè mi ha proprio Aiutato a capire Cosa voglio Veramente nella mia vita Che prima o poi Se verrà Speriamo Forse no Non si sa Il futuro Cosa ci aspetta Ma Comunque appunto Grandissime esperienze Grandissime opportunità Persone meravigliose Quindi Se Sei in dubbio Ho ucciso Se sei in dubbio Se siete in dubbio Parti Parti Partite E Farelo per È un'esperienza Veramente gratificante Non è stato il punto Di vista Dei soldi Perché le au pair Sono note Per essere povere Perché Il nostro salario Non è che sia altissimo E Viaggiare costa Lo shopping Costa Io Sono una shopaholic Spendo molti soldi In shopping Lo so Però A me Tutti questi negozi Americani Fanno impazzire Io Ogni settimana Mi compro qualcosa Infatti Penso che Inizierò a fare Un po' di haul Perché Cioè Sono veramente Shopping addicted Ogni settimana Mi riprometto Di smettere Di comprare Vestiti Perché Ne ho L'armadio Che Ho l'armadio Che Pressoché Straborda Però Poi dico Ma questa maglietta È troppo carina E costa soltanto 8 dollari 20 dollari Compriamola Anyway Comunque sia Quindi Cerchiamo di fare Codi Cerchiamo di tagliare Cut La situazione Non potrei Ok Io veramente Non C'è la prossima volta Mi preparo Prometto che mi preparo Se Avete Se volete Ecco Se volete viaggiare Tanto Per il Nord America Fare l'aupare Fa per voi Perché È un'esperienza Che mi da Veramente Tanto Io sono contentissima Di essere partita 8 mesi fa E Appunto Ho deciso di Stendere ancora un anno Perché dopo il primo anno Puoi scegliere Se tornare a casa E stendere di 6 mesi 9 mesi E ancora un anno E Io ho scelto Di stendere ancora Per un anno E appunto Penso veramente Che sia stata La scelta migliore Della mia vita La mia scelta Migliore della mia vita Che è la scelta migliore Della mia vita Mi ha dato tantissimo E so che mi darà Ancora tanto E Quindi consiglio Per tutte le persone Che sono in dubbio Partite Scegliete con cura L'host family Non è una cavolata Perché veramente Se io fossi Depressa Giorno dopo giorno Perché non supporto La mia Host family 8 mesi Sarebbero veramente Lunghi Invece sono volati Anche perché Anche e soprattutto Grazie a loro E Le bambine Mi danno un amore Immenso Ma anche i miei Genitori americani Mi danno un amore Immenso E quindi Niente Io vi consiglio Assolutamente Di partire Conoscere un sacco di gente Il vostro inglese Migliorerà tantissimo Il mio inglese È migliore Io già parlavo Un inglese Abbastanza buono Ma quando sono arrivata qua Mi sono resa conto Che Comunque Parlare Con una persona Che sa solo Parlare inglese Quindi non è che può Puoi dire qualche parola in italiano E loro capiscono E Fluentemente Non è così Semplice Come sembra Mi ricordo Il primo mese Quando a gente mi parlava Io Yes Yeah no I mean And Facevo veramente Non fatica Ma Dovevo impegnarmi Invece adesso Forse c'è dopo 8 mesi Adesso non devo più Neanche pensare Parlo in Alla traduzione Italiano-inglese Perché penso direttamente In inglese E quindi E quindi Le note positive Sono tantissime No 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 Una nota Veramente Negativa Che Ammettiamo Che Ecco Fate più attenzione Di come ho fatto io È il cibo Perché il cibo americano È Non è cattivo È buono Però È talmente buono E grasso Che tu 8 mesi dopo Che no È 8 mesi Che tu 6 mesi dopo Ti svegli una mattina E provi a metterti I tuoi vecchi jeans E i vecchi jeans Non si chiudono più E dici Ma come è successo E poi inizia a capire forse Che se mangi Ciambelle Tutti i giorni Hamburger Come piovessero E cookies Dalla mattina Alla sera Forse 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 qualche chiletto Lo prendi Forse forse Qualche chiletto Sono 10 chili E quindi tu Non fai che piangere Mangiando Gelato E biscotti Per consolarti E quindi Sì Io mi sono messa a dieta Adesso Dopo 8 mesi Ho deciso Che forse Che forse Al destra della palestra Bisogna usarla E Che forse Bisogna smettere Di mangiare Proprio Zucchieri Come se piovessero Ogni giorno Il fatto La cosa bruttina Dell'America È che Lo zucchero Pressoché ovunque E non sto scherzando Cioè nel pane Per esempio Mettono tantissimo zucchero Il pane dolcissimo Qui E La nutella Per dirvi Che già è grassa In Italia In America Hanno Penso Un 20% Più di zucchero Quindi ancora più dolce E burro di noccioline Cioè Bisogna Anche fare un po' Attenzione A cosa compri Ecco Quindi con il primo mese Ti spalmi Di burro di noccioline Forse non è una buona idea Fidatevi di chi Ha preso 10 chili Ma li riperderò Sono fiduciosa Li ho persi Quando ero in Italia Li ho ripresi qui Cerchiamo di riperderli qui E No no Cioè Ci stiamo lavorando su Ci lavoriamo su Una fatica E Qui Il mio telefono Aveva deciso di morire Quindi diceva A parte la nota dolente Del cibo Partite Partite Venite a fare le operne Gli Stati Uniti Perché È veramente Veramente Lo so che continuo a dire Che è un'esperienza Dimenticabile Ma è l'esperienza Più bella Che abbiamo mai vissuto In vita mia E quindi Non posso fare altro Che consigliarla a tutti Un bacione E prometto Che proverò a fare altri video Perché voglio proprio Mostrare a tutti La bellezza del Maine E degli Stati Uniti Un bacione